Bene e benvenuti, vediamo come fare a fare del coding con Unity Useremo la 2018 420 F1 perché è poi quella che ci consentirà di spostare su VRChat Nel frattempo però tenete conto che le prime incontri le faremo con Unity a sé stante In modo tale da prendere confidenza con lo scripting e i pannelli, insomma tutte queste cose che funzionano con Unity Quindi andiamo senz'altro nei progetti, facciamo un new 2018 420 F1 Questo lo chiamiamo il video 1 perché è il primo video che facciamo E facciamo senz'altro il create del progetto Allora, useremo Unity se possibile nella sua versione base senza nessuna add-on o cose strane Se per caso vedeste delle cose aggiunte cercheremo di non usarle Questo per poter consentirvi di usarlo anche senza tutte le raffinatezze Ok, ho tagliato il pezzo in cui scaricava Vedete che ho un layout che è un po' particolare Ma vi spiego come fare il layout fatto in questo modo Notate che ho tutte le parti testuali di gestione, quindi la gerarchia Il progetto e l'inspector vicino Questo perché è utile averle vicine perché ci lavora sempre con quelli Inoltre ho spezzato la scena e il game e messo la console in fondo Ora vi farò vedere come ottenere una cosa simile Quindi partendo dal layout standard Vedete che abbiamo l'inspector L'inspector conviene averlo il più grande possibile sulla destra E conviene avere il progetto allineato qua Quindi lo prendo, lo clicco partendo dalla tab E lo sposto fino a che non lo vedo sulla destra Vedete? Ok Dopodiché prendo il game Questo e lo sposto qua sotto In modo tale da averlo sopra la console Vedete? E poi prendo ancora la hierarchy La gerarchia E la sposto in modo tale da averla sulla destra A questo punto abbiamo il formato che ci interessa Quindi in pratica abbiamo un bel po' di spazio per impostare la scena Possiamo vedere il game qua sotto Che non è tantissimo ma è già meglio che non andarlo a cercare di là E la console per eventuali messaggi nel nostro programma Però in più abbiamo la gerarchia e il progetto qua vicini Quindi gerarchia sempre sopra e il progetto sempre sotto Il progetto potrebbe convenire vederlo con questo cursore a sinistra In modo tale da vedere tutte le scene Se volete salvare il vostro layer Fate save layout Gli date un nome Quindi io gli ho dato per esempio Salazar E una volta salvato potete ripristinarlo partendo dal default Piuttosto che Salazar E tornate al layout che avete selezionato Questa è la primissima parte